Un cordiale buon pomeriggio e la prima del convegno, una buona tre anni sul doppio chilometro con i nastri a 2060 Zeria Di Casei, Zeus, Zang, Zingo, Zorro, Zaire Weiss, netto favorito, a 2080 Zecchino d'Oro, Zietta e Zoi De Veltri Cavalli in pista grande, pronti per partire Zingo Yang a largo impegna Zanghi per il comando all'attacco della piegata, parte alla grande della seconda fila a Zoi De Veltri ma viene anticipato da Goccia d'Oro con Zaire Weiss e così Zanghi al comando ci va al completamento del lancio che se ne va in 14 e mezzo galoppa Zingo Yank e così Goccia d'Oro può parcheggiare un attimino poi punta in avanti e sarà un classico freeway per il Marajà di Casa Giallo di Goccia d'Oro 29,6400 ora lunga fila indiana con Zaire Weiss che ha chiuso a 1,27 addirittura al comando 45,6600 e ora può già amministrare un po' i birilli, il leader e siamo al completamento della piegata cavalli che si presentano davanti alle tribune in terza posizione la Zoi De Veltri mezzo miglio in 1,1,5 16,4 di frazione poi il 2 di Zeus di Varco fuori corso il 7 di Zecchino d'Oro primo chilometro su un mio in 16,2 e cavalli che affrontano la penultima curva l'andatura è brillante e chiaramente non avvengono variazioni con la maglia gialla sempre al comando addirittura non è il Tour de France ma è soltanto il Goccia d'Oro con la sua giubba ormai eclatante e conosciuta in tutto il mondo a lunga si distende il Maragia notevole frazione di fronte 14,4 che mette in condizione il Maragia di prendere vantaggio i cavalli affrontano la curva finale se ne va definitivamente miglio incandescente 1,59 e ormai si è chiusa la partita come doveva essere dalla quota esposta al totalizzatore retta d'arrivo per proprio conto il targato AS Wise Maragia che fa ancora un'arrivo eclatante poi un'ottima Gioia dei Veltri viene bene il 2 di Zeus di Varco il Maragia come quando vuole no limits ottimo la Gioia dei Veltri buono di Francia con Zeus di Varco leggo 1,13 di fronte io ho 2,27,5 sul mio cronometro signori la maglia gialla questo Tour de France ormai possiamo dire è lui il padrone di Situation ma di tutte le corse Alex Gocciadoro come quando vuole Man Wise AS con questo Maragia e lui è un'ottima Gioia dei Veltri e lui è un'ottima Gioia dei Veltri e lui è un'ottima Gioia dei Veltri